La differenza tra guidare una macchina in pista e guidare una macchina in strada è enorme. In strada noi siamo abituati a guidare preservando al massimo il mezzo. Qua invece in pista bisogna andare proprio al limite del mezzo, cercare il limite del mezzo rispetto alla pista, cioè cercando di ottimizzare traiettorie, frenate. Nell'ordine la staccata, l'impostazione della curva e l'accelerata si fa in un modo abbastanza brutale, bisogna andare al limite del mezzo. Questa Peugeot, la 308 Racing Cup, trasmette della grande sicurezza. È una macchina che fa proprio venire voglia di spingere l'acceleratore, di andare a cercare il limite. Grazie!